un minatore quindi no eh buh no 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 so un po' di mal di testa forse perché no neanche troppe seghe perché contando che studio così tanto non ho neanche il tempo di farle durante il giorno quindi credo che sia letteralmente stress accumulato che mi sta devastando credo che sia stress accumulato c'ho tipo così incredibile addosso troppo tempo con la chiera vicina anche anche cioè radioattiva buonasera a tutti vi saluto con la febbre di The Wood mi spiace Sunderland e quindi boh credo che sia fatto che credo sia più che altro lo stress di queste cose qua credo minchia già urla non ho urlato affatto capito nel corpo e nella mente Pog credo sia fatto Pog allora buonasera forse è il ragioniere che ti ha messo in questa situazione esatto Margix ma sicuro mi sento proprio mentalmente c'è proprio esausto oggi ho fatto tutta sta roba qua vernice fresca oggi ho fatto sta roba qua tutto il giorno di nuovo tutto il weekend la farò lunedì la farò e martedì poi vengo poi mi boccia martedì e io devo impazzire martedì io devo impazzire perché se mi boccia martedì basta mi ritiro dalla università perché è impossibile per me dare quella materia allora se mi boccia martedì quindi altra cosa che vi volevo dire anche io sono a Schiavaniede è tutto incasinato ma a me non ho voglia di pulire brava brava altra cosa che volevo dire era che sicuramente poi mi chiederete com'è andato l'esame martedì sarete curiosi eccetera ah ecco cosa c'è scritto nei fogli vernice fresca lit raggio it's lit e poche parole martedì non lo potremo sapere com'è andata perché o me ne vado cioè proprio cioè nel nel senso vado lì vedo che l'esame per me è tipo impossibile e me ne vado però non può accadere non può accadere perché se accade vuol dire che proprio devo devo morire perché non posso andarmene dopo che studio così tanto se se faccio l'esame però ci mette tipo dieci giorni a correggerli quindi martedì mi chiederete com'è andata se ne va per sempre dido weird martedì magari mi chiederete dido com'è andata io non lo saprò sappiatelo già io martedì non lo saprò sapremo com'è andata madonna si alza guarda minchia si erge si erge per far vedere a tutti che fa schifo per farlo vedere meglio e quindi quindi niente si saprà com'è andata boh il quindici tipo il dodici il quindici una cosa del genere si è mossa non ci credo fastidio ri guarda lì in chat che appartono guarda chi la dai fastidio a tutti non hai una qualità a parte brini che ce l'hai abbastanza larga per poter eh quindi partiamo partiamo devo già aprire streamlabs se no poi lo apro dopo interrompo una eh infatti interrompo una bizzata come scusa a meno cosa a meno che ti fa schifo no invece invece si ditemi saluti ti seguo da sempre ciao Sergio ciao bello ciao bellissimo ok la smetto Sergio però approfitto del tuo messaggio per fare coming out almeno ma lo sapevate un po' comunque in fondo oggi ho scritto a Ivan tipo che sono innamorato di lui una cosa del genere cos'è cos'è che ti ho scritto oggi ti avevo scritto una cosa particolare io avevo scritto cos'è che avevo scritto esattamente perché probabilmente lui non sa scrivere italiano così io l'ho corretto ecco ecco perché sono innamorato di te ecco quindi niente è confirmed dell'e-cad è vero è vero quindi e quindi in inglese no in italiano avevi scritto avevi scritto tipo è già tanto che riesco a scrivere una cosa del genere grazie tesoro va tranquillo Sergio tranquillo e quindi ma che ma che ma che carini che siamo io e Ivan davvero siamo bellissimi io Ivan siamo bellissimi comunque parte la ship ai 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 comunque buonasera 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 miei pepega verdi bellissimi ragazzi ma quanto siete discreti questa sera insomma siete belli sempre ma questa sera che cazzo avete fatto ragazzi mamma mia tutto quelle cose tutte mamma mia un odore beh madonna no ragazzi dai quindi guardali pepega vuole vuole rubarmi il personal trainer camilla io e Ivan abbiamo visto una cosa qui hai messo like oggi ok come sei su facebook e come sei su instagram taci perché sappiamo che allarghi il culo chi non sa di cosa sto parlando avrà una considerazione pessima adesso di te ed è giusto così ma guarda che te ti lavi una una volta al mese e quindi e quindi lui l'ha vista io non ti stalk così tanto ma c'è il like sotto non è questo di stalkerarla c'è il like sotto ah Camilla pepega piace la cosa e quindi road to force tanto vedo i pepega che vanno noi abbiamo sempre una pessima considerazione di tutti soprattutto di me fra l'altro si ma io non seguo le meme ma non so le meme dei gatti si chiama cabbage cat memes meme del gatto della verdura tipo no del cavolfiore il gatto nella polvere il cazzo nella cenare come cazzo si dice comunque buonasera spero abbiate passato un buon venerdì ragazzi domani sapete domani inizia il weekend domani inizia il weekend ragazzi incredibile ragazzi è incredibile come il tempo sia un susseguirsi di minuti e altre cose è incredibile quindi domani comincia il weekend e spero che vi possiate riposare divertirvi festeggiare svagarvi ragazzi ragazzi io lo passerò su ragio letteralmente basta non vedo l'ora che sia domani sera perché dopo cena mi metto a dormire mi sa perché sono morto ma per alcuni weekend inizio oggi è vero va bene effettivamente è vero a dubbi a carmi in disco frea bestia come ti invidio un botto Ivan litest fuck ragio pepega sfigato ho capito sono mille fogli ok tutti così ok si vede anche stavolta allora facciamo così sono mille fogli tutti così ok metteteci metteteci dic 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 voi lo staff tutti bianchi ma non è vero non è vero è vero ok c'è davvero lo staff questa sera buonasera twitch staff buonasera twitch staff chat behave chat behave di do bridge infatti dite ma non hai freddo con le maniche corte no alla mia camera ci sono sempre mille gradi ragazzi se ci fosse un termometro da parete se avessero che esistono però ci fosse un termometro da OBS che praticamente ha un'estensione che la USB praticamente prende il contenuto della temperatura esterna la piazza su OBS vi potessi far vedere quanto caldo c'è in sta camera perché la kira sta qua perché l'ha tratto bene non credo proprio che sia perché l'ha tratto bene quella merda sta qui perché questa è la stanza più calda della casa lo sapete eh hi staff perché lì dito bridge subito I'm gonna say it qui a Catania c'è dito bridge qui a Catania c'è Sant'Agata tre feste religiosa ah la terza festa più religiosa più grande al mondo e quindi non si può uscire perché le strade sono piene a tappo vabbè meglio per me così ho più spettatori più soldi con cui comprare le puttane e le melanzane che fanno clap esatto esatto quindi andiamo it's time perché poi appunto abbiamo 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 il abbiamo il il moncatos no non ho detto nulla abbiamo il come si chiama resident evil chu chu oggi voglio arrivare almeno a due quinti di gioco io punto a finirlo in cinque live circa no cinque live un'ora e mezza live sono circa un'ora e mezza tre quattro e mezza sei sette ore e mezza facciamo cinque cinque live oggi siamo alla seconda per fine ottobre per fine ottobre finisce sicuro per fine ottobre finisce sicuro e melanzane clap twitch staff this is actually just a chatting stream no non è vero it's not true it's not true non è vero non è vero non è vero perché now we are going to play resident evil please ok ok this is correct now thank you Ivan for letting me know the enormous huge mistake resident evil e la mummia pasticciona si è fiss ok twist ma ancora quindi partiamo eccolo pog grazie durden non so che scrivere quindi quello che non c'è è che ho deciso di ah ok ho deciso di affaticarmi mentalmente scegliendo di fare ingegneria dopo l'alberghiero parole del gatto insomma ricky ricky ho quello buono complimenti per i 17 mesi grazie grazie per i 17 mesi grazie mille grazie grazie mille grazie mille molto molto gentile grazie per i 17 e effettivamente fare ingegneria dopo l'alberghiero ne hai tutto il diritto ma effettivamente è un po' un casino effettivamente non perché chissà per quale motivo ma perché l'alberghiero non dà le basi per fare ingegneria appunto cioè dopo che esci dall'alberghiero sai fare le operazioni le cose così le somme le moltiplicazioni però non sai fare tipo i logaritmi non credo sappiano cosa sono non credo che ingegneria è un casino ricky ho cambi idea il prima possibile please andiamo avanti quindi fujoshi accanto a me c'è una persona che non ha mai visto late to live non farmi fare brutta figura mongolo fujoshi ciao amico di fujoshi ciao ti viene bene questa sera perché ci stiamo comportando bene ci stiamo comportando bene siamo una chat seria chat seria di the weird non è questa sera ti va bene perché questa sera va tutto bene ti viene bene questa sera sì sì questa sera va tutto bene adesso inizia a sbavare no 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 chat seria per favore live seria chat seria di the weird seri seri di the weird seri quindi vuoi essere autistico sono stato tre giorni per poco mi 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 no perché manca la live dell'altro ieri puttana merda miseria in culo fottuta porco puttana troia ragazzi non mancano le live se non ci sono ora vi ora ora vi mostro ora vi ora vi mostro di dio scusami ma quanto è che non ti metti è vero è vero è tanto vanessa dalla settimana prossima devo anche farlo se non vedete una live mettete video non andate nelle trasmissioni mettete contenuti in evidenza è qui se non trovate una live è qui ok esempio vedete altra live ma ci sono è parte 1 e questa è la parte 2 della stessa live ok ma seri cosa brutto pepega di dio ok ho capito perché insomma come come dire e no did meglio twitch di gran lunga sa fare una cosa del suo del suo lavoro po' io so fare tutto dello streamer tutto so anche fare guarda guarda come mi muovo veloce guarda solo che non mi riesco a mettere i filtri un tempo avevo i filtri tutti quelli belli c'era la le sbarre del carcere c'era un sacco di filtri e non ci sono più e non so dove trovarli quello è brutto non so assolutamente dove mi cassino no aspettate che ho fatto un casino qua chiudi qui ok ok di dio monca esse quanto di dio monca esse quanto grazie per l'autoride un problema che andrà un sacco spero di tornare più presto marina non ti preoccupare ben tornata per questa sera grazie per questi 10 beats non ti preoccupare risolvi i tuoi impegni noi siamo sempre qua grazie mille professional streamer buonasera a te jolly come stai bravo Tommy se vuoi ti spoilerò il finale sto scherzando ovviamente state tranquilli grazie per i beats è normale mi devo togliere lo stesame perché davvero sto letteralmente sognando di fare sto letteralmente avendo gli incubi quindi marcoseri cosa questa voletta e alessio ciao 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 anche a te controllo recap controllo la pagina del recap di dio di dio monca esse di dio monca esse controllo che non ci sia non sia for work ce n'è uno ce n'è uno ce n'è uno ce n'è uno ok allora vado a dare un'occhiata senza audio perché sappi com'è quando di doio riesce a convincere ok caputtana questa sera proprio dovevate mettere ste cose ok è un link a una pagina instagram che però non si può vedere perché è privata è privata quindi non posso far vedere niente è chiuso cap no giuro che è davvero privata di dio moncatossa ma non ho fatto niente non ho fatto niente just chatting just chatting please twitch stuff quindi non ho fatto assolutamente nulla cap cap faceweerman punto di domanda no davvero il link ce l'avete su reddit cliccateci vedrete che è una pagina instagram privata quindi non posso mostrare nulla 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 e ora possiamo partire ora possiamo partire guarda anche l'orario in basso pepega 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 18.52 cosa a quanto siete 18.52 dai cazzo prendimi 113.000 giustamente 113.000 aaaaaa complimenti green chat complimenti pepega complimenti pepega complimenti green chat complimenti complimenti sempre di una di una elevatezza a dir poco notevole ragguardevole grazie ah ma c'è tre c'è degli spettatori ah i tech eh sì Tommy infatti guarda che comportamento esemplare che abbiamo siamo infatti il canale meno tossico e cancerogeno di tutta Twitch Italia quindi giusto per farti cacare un po' in mano il mio amico catema è momentaneamente a Genova così sulla richiesta gli ho dato il tuo cap ok allora lo so che ormai il cap della villa magazzino dove faccio spedire le cose ad amazon è una cosa di pubblico dominio ormai però non sembra un po' da stalker questa cosa il cap eh sì ha detto che cerca di controllare più abitazioni possibili cercando il campanello con scritto pasquali e che se lo trova lo suona immediatamente la tua unica salvezza è sperare che ci sia più di un pasquali nella tua zona sei fottuto di doio allora se io vado a vedere monca esso se io vado a cercare tipo cognomi Genova ok no cognomi della provincia Genova femminile com'è femminile vabbè ok no sta pagina la posso cioè sta pagina non c'è nulla no quindi se io faccio così nomi più diffusi della provincia di Genova no padani no pagina padani va a guardare tutti i campanelli se noi ci occhiamo Pasquali ad esempio non c'è nemmeno nella prima pagina l'importante è che sia tra le prime pagine perché se no ce n'è pochi non c'è nemmeno nella seconda insomma ecco qua i cognomi più diffusi per iniziale P non c'è neanche Pasquale non c'è Pasquali non c'è ah ma non ma non sono in ordine Pasquale uff ma non sono in ordine cosa vuol non capisco tu tu non esisti scusa ma se io clicco su uno a caso Pisu 2300 non ho impiso in Italia ma io voglio sapere a Genova ad esempio più del 5% sono a Nuoro buonasera ma ho capito ma che cosa vuol come funziona io non ci sono pepega mega sei fottuta non funziona non funziona ma meglio va bene meglio c'è ci sono quelli incredibili vabbè allora magari sono al ventesimo posto solo uno ok Plenzio quello di cui ce n'è meno Pipuzzi progressivo cos'è va bene ok allora niente buona fortuna Catema ne avrei bisogno per trovarmi no non mi non mi trovare per favore Plenzio Megalul ci sono 21 Pasquali sulle pagine bianche DJ moncaes non credo non lo so non voglio saperlo Shaggy you better use 101% off your power Shaggy I will take your subreddit I said now you piss me off grazie Ivan che per una volta riconosce l'immenso potere del mio autismo grazie Ivan grazie grazie quasi da poter affrontare l'onnipotente Shaggy quasi grazie grazie di doglio spiega cosa è successo nel mondo di Dark Souls chat lore salvata subito salvata subito insomma salvata subito oggi non oggi non insulta Ivan moncatì se non mi insulta io non lo insulto io sono la rincarnazione letteralmente di Papa Voitile e Gandhi quindi se nessuno mi attacca io non lo attacco quindi se io non io non lo insulto a mia volta quindi bellissimo l'ho salvata ah no aspetta cos'è che c'è scritto Gwyn che inculò Sif per comparsi un hot dog da Izalith è vero è vero è nel libro 5 quello si potranno fare grandi cose ma se usassimo il 100% del nostro cervello allora comunque comunque la cosa del fatto che non si usa il 100% del cervello è una cazzata ok per voi toglietevi questa meme perché c'è gente che ci crede non è vero basta non è vero chi era Papa Voitile prof è la prossima lezione devo spiegare la pipì nelle palle e Papa Voitile chi era giustamente vedi fino alla fine non è finita la live tranquilli Resident Evil 2 ma with 500% animations dove dove è la nix però cosa è finita Pog buonanotte ragazzi buonanotte allora vabbè si insomma sono carini si niente di incredibile sti video cursen what e allora è bello quando è bello quando è un bug quando viene fatto apposta con qualche programma che le aumenta al 500% che non mi fa impazzire quando è un bug è carina pelle che fa ok fanny si no infatti a me non fa molto ridere però vabbè so che fa ridere a molte persone quindi l'ho fatto vedere monca omega jack grazie per i bits altro posto ma sforno i disini dalle ascelle oddio king i succhi gastrici che schifo i succhi gastrici madonna che schifo comunque crostini bellissimo crostini bellissimo crostini bellissimo crostini bellissimo grazie grazie c'è anche scritto re sulla piccola coroncina anche non frega niente se è un work in progress è bellissimo quindi grazie quindi grazie c'ho anche la kira in braccio c'ho è un d2e è chiaramente un d2e quindi grazie grazie non lo sto salvare perché aspetto la versione completa c'è uno shout out avete detto ah era ma era la foto di trilli eh sì che era la foto di trilli sì una settimana fa ho dato ragio e oggi sono usciti i voti ho fatto 17 e a Milano se prendi 17 non fai un orale per alzare il voto genovesi ma non è vero non è che a Genova funziona così è la mia prof che fa così punto è la mia prof non è che a Genova funziona così meno male che non dovevi farmi fare brutta brutta figura che cazzo ho fatto non mi sono neanche sputato addosso non ho parlato di sborra di peni non ho parlato di infilarmi matite nel buco della cappella non ho parlato di niente you will fail ragio megalul grazie grazie gachi hyper ah ho aggiunto due emot ragazzi ho aggiunto due emot ve le faccio vedere ho aggiunto due emot me l'ero me l'ero scordato new emot pog new emot pog eccole lì esatto ve le faccio comunque vedere sono dato che ogni tanto c'è qualcuno di voi che fa il compleanno e ogni volta c'è solo uno spam di tanti auguri ho detto mettiamo qualcosa a tema tanti auguri e c'è un gachi birthday che va benissimo per quando qualcuno fa gli anni dato che ogni tanto anzi in verità abbastanza spesso c'è qualcuno di voi che fa che fa il compleanno e questa è bellissima mi piace tantissimo può essere utilizzata in mille modi diversi e li troverete tutti ovviamente ecco già Ivan che mi mette pepe scuz punto di domanda è abbastanza abbastanza carino comunque volevo mettere lo mg scuz no cioè l'emot quella così per per prendere per il culo quando qualcuno fa il saputello fa il so il so tutto io però non c'è su better twitch tv non c'è e quindi ho messo il pepe scuz perché è quella più carina che c'è e mi piace ora sto vedendo la sto vedendo in chat e mi piace un sacco pepe scuz punto di domanda non so perché mi faccia così ridere ma anche pepe scuz clap pepe scuz perché deve esistere sta io non so mi fa ridere ok mi fa ridere cos'è cos'è quel feto radioattivo mi fa ridere lasciatemi una emot che mi faccia ridere di di gusto quanto il pepega il face weird mentre qua please please questo qua meglio quello controllo perché vedo cose strane ah no ok stavo vedendo cose che non c'erano ma ma non ha il naso pepe scuz clap e quindi new green chat pepe scuz non so perché mi faccia così ridere mi sento un coglione mi fa ridere non capisco perché comunque quando hai due account su reddit e quindi puoi votare due a due volte i post della family autistic ed è vero lina craft altra meme ma ho il doppio del potere e anche il doppio dei cromosomi grazie mille grazie lina craft grazie mille cos'era qui eh io ho perso una pizzata vado vado cosa sto vedendo in chat monca x non so mi piace tantissimo pepe scuz indica l'akira perché mi fa così ridere dei pixel verdi è una non so perché è l'espressione non lo so è tipo l'espressione scazzata è l'espressione tipo per niente colpita non so perché mi faccio così ridere beniti meglio dice che hai perso anche una sua pizzata nell'unico allora no l'ultima pizzata che ho visto era questa di camilla che mi ha chiesto se era la foto di trilli infatti ho detto si è trilli volevo annunciare che hai creato una nuova coppia me e ciccio beh va bene pepe scuz interesting cancer pepe scuz su frankerfaces c'è cap ma tanto cap lo stiamo già usando sull'altro sembra un po' ah vabbè dici per liberare uno slot si ha senso ha senso e marina comunque farò finta di non aver letto non voglio non voglio saperne niente benigni dice che hai perso una sua pizzata non è arrivato niente no non c'è no queste qua sono di ieri sembra un po' un ddv non lo so è un'espressione a metà tra il ddo no il ddv è a metà tra il il fizz weird man e il ddo weird si è una è una specie di di ddo weird di fizz weird man però che mi fa più ridere perché ecco il pepe scuz e il ddo vu messi vicini sembrano due persone molto poco colpite che ti giudicano non sto capendo questa emot pepe scuz non lo so perché mi fa così ridere nel senso che omg scuz c'è su frankerface tv si ma su ah ok in quel senso ma su frankerface tv non abbiamo più slot quindi devo liberare lì uno slot però mi mi piace sinceramente di più il pepe scuz non lo so mi fa troppo ridere pepe scuz ddv sembra che stai facendo una sfida di sguardi con pepe anche ecco l'avevo detto io che ecco questo ad esempio è geniale questo ad esempio è geniale di the weird you see this yes è molto depressiva quando la non è vero mi fa ridere scusatemi ragazzi scusatemi non mi è mai successo di ridere così tanto semplicemente guardando una emot quindi visto che non ci hai creduto con la storia ti racconterò questa molto più vera poi please non ne bandarmi si taras sono proprio curioso allora era l'anno scorso stavo al bar con un mio amico quando io senti Ciro sei mica di Napoli ma per caso conosci quella storiella Ciro quale io più che storiella è una battuta lo sai che tra 29 giorni c'è l'anniversario della morte di Aniki no Olenor no Olenor no Pepehands che spack Pepehands spack Billy Billy wake up Billy please wake up grazie per la news orribile Olenor non lo sapevo non me lo ricordavo grazie per la news orribile grazie se vuoi farmare un po' di karma fai una picca e mettila nel sabreddit di Forsen e farai un botto di karma se ti interessa farmare karma se non lo faccio io strumentalizzare anche cazzo dici Pepe e vabbè allora quindi andiamo quindi ma per caso conosci conosci quella storiella quale più che storiella è una battuta vorrei sentirla no vuoi sentirla se ok se squalida me ne vado e paghite il conto il contoio ok sicuro ti piacerà ma com'è scritto questo dialogo quale I am alone Pepe Scuz please qual è la città preferita dai ragni boh che ne so Mosca Maurizio ma lì che è anche il tuo nome Taras se 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 ne andò seriamente dovetti pagare il conto e non mi rivolse la parola per un'ora sana cioè non era così brutta sì lo è arrivederci di the buon proseguimento questa riesco a credere che sia reale invece Saras God has abandoned me Pepe Scuz di Simo test cancer state trovando tipo tutti i possibili usi tutti ciao rinocerollo for edvu aiaia cos'è scus lo c'è la c'è la c'è la s'è la c'è Con la fascetta Della città della foglia Eh Pepe Scud's Clap va bene Overusing as fuck Questa nuova emote Run with carm No run with arms Behind the back Lo capita molto dopo Good job Pepe Scud's Pepe Scud's che sborra in faccia La iaia è molto inquietante Cristo ho messo spoiler Perché si tratta di Resident Evil 2 Puoi sbloccare questo personaggio Cos'è il blocco di ghiaccio Tipo un blocco di riso o qualcosa Tofu era tofu Vabbè non è spoiler è un blocco di tofu Punto Sì non ho capito perché Ai giapponesi a quanto pare Il tofu fa un sacco ridere Non ho capito perché sta cosa I giapponesi se non sono sempre più strani Dio mio Dio mio Eh melanzana Pepe Scud's Allora Questa la salvo Non la posso mettere come emote Perché se metto questa come emote E poi Abbinarla al clapet Non è orribile Perché avrebbe quattro mani Tipo sarebbe più da Chernobyl Che da live Però è bellissima E l'ho salvata Allora è fatta con una qualità assurda Porca puttana Durden Complimenti 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 Quattro mani Mon cavu E infatti Melanzane Clap Melanzane In realtà nel gioco Non era tofu Ma erano le hitbox Di personaggio Senza texture Pepe Scud's Oh vedi Vedo che già c'era Una grande occasione Per usare il Pepe Scud's Nell'originale Era aggiunto Come campagna bonus Il tofu Ma in origine Il tofu Lo avevano usato Per testare Le collisioni Time Lord Gamer Wow Continua pure Ah 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 Poi un G Scud's Ah Quindi Curse Ed Emote Ah Ah Tofu Lore Pepe Scud's Finito male Ancora Alle 19.32 Dai basta Che se no Banno Cute girl In realtà L'ho fatta Mentre ero sul treno Con il telefono Minchia Ma è fatta benissimo Complimenti Durden Non ho idea di come Ma complimenti No Non ho idea di come Mamma è troppo piccante Ci credo Hai messo troppo Pepe Scud's Mamma mia Sergio però Se hai tu Di doio Di doio Di doio Sdignity Weight Mental health Perché le ve Ah ho capito Oh No No L'ho capita Dopo E sto forse Nel senso Che ho delle vene Sexy Nelle braccia No Quindi la tipa Mi viene a parlare Perché ho delle vene L'ho capita Dopo Quindi Scendiamo Finiamo Scendiamo Finiamo Ok Tofu Lore L'ho capita Dopo Pepe Scud's Eh si Vediamo Cos'è questo Adoro Questa meme Zio Pepe Please Grazie Grazie per la visione!